La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Cerchiamo di ripercorrere un attimo quelle che sono state le tappe di questo dissidente, in modo che ognuno possa farsi una sua idea e soprattutto capire quanto sia assurda la versione che vedrebbe Putin responsabile del suo omicidio in carcere. Navalny, a quanto dicono, c'era già stato un tentativo di avvelenarlo in passato. In realtà la cosa non è mai stata dimostrata ad opera di Putin, neanche in quella occasione. Però diciamo che era un grande oppositore di Putin, che Putin era preoccupatissimo e che ritenesse indispensabile farlo fuori fisicamente, altrimenti avrebbe corso dei seri pericoli alla guida della Russia, perché Navalny lo impensiriva. Prendiamo per buona questa ipotesi. Quindi tentano di avvelenarlo, però falliscono, quindi non riescono a raggiungere l'obiettivo. Navalny resta in vita, viene ricoverato in un ospedale, in un ospedale nel paese dove comanda tutto quel presidente che vorrebbe vederlo morto a tutti i costi. Quindi quel presidente e quei servizi segreti che vorrebbero vedere Navalny morto a tutti i costi. però lui viene ricoverato in ospedale, viene curato, viene salvato, non viene permesso neanche ai parenti di avvicinarlo, quindi c'erano tutti agenti russi in quell'ospedale, però nessuno pensa di finire l'opera in quella occasione. Anzi, i medici lo salvano. Non solo lo salvano, ma poi gli danno anche il permesso di lasciare il paese, e quindi fanno atterrare un aereo tedesco, l'aereo tedesco carica Navalny e lo porta in Germania per le cure. Tutto questo sotto al naso di Putin. Navalny arriva in Germania, viene curato, si salva, quindi torna in Russia, viene bloccato all'aeroporto, viene portato in carcere. inizialmente è al massimo, diciamo, della sua notorietà, soprattutto nei primi mesi dopo il ritorno dalla Germania, ma lì Putin lo lascia assolutamente stare. Per tre anni non lo tocca, anzi, Navalny continua a fare l'oppositore anche dal carcere. Abbiamo visto in questi mesi i tweet di Navalny dal carcere. Quando è che decide di farlo fuori? Quando ha appena rilasciato una intervista ad un giornalista statunitense, intervista diventata virale sul web, e che ha costretto tutti i media occidentali a parlarne, mostrando per la prima volta un volto più umano di Putin. Il volto di Putin che racconta la verità su quanto accaduto, e su tutto quello che gli Stati Uniti hanno fatto per costringerlo a quella operazione speciale in Ucraina. Quindi proprio nella settimana in cui Putin è su tutti i giornali, quella precisa settimana, viene fatto fuori Navalny. Quindi che cosa succede? Che tutto cambia nuovamente sui media occidentali. Tutte le prime pagine non parlano più dell'intervista di Putin, raccontano semplicemente quanto Putin sia un killer che ha ucciso il suo più pericoloso dissidente, quanto sia contro la libertà di informazione, quanto sia un sanguinario dittatore. Ma c'è di più. Oggi c'è la sentenza per la possibile estradizione di Assange negli Stati Uniti, dove Assange farebbe una fine molto peggiore di quella di Navalny. Gli aspettano infatti oltre 100 anni di carcere, in mano a quegli apparati che hanno provato in questi anni a torturarlo psicologicamente, almeno a quanto hanno confermato le principali organizzazioni sui diritti umani. Bene, quindi proprio oggi che c'è la sentenza su Assange, una sentenza che Putin avrebbe potuto utilizzare contro l'Occidente, contro gli Stati Uniti, per spiegare quanto siano antidemocratici, quanto siano dittatoriali i loro metodi nei confronti di un personaggio che ha osato dire la verità per smascherare i crimini americani. Quindi sarebbe stato veramente qualcosa di importante nelle mani di Putin, per quella che molti chiamano la propaganda russa. Bene, proprio prima della sentenza, Putin decide di ammazzare il suo dissidente nelle carceri russe, in modo che da domani in poi non potrà utilizzare la questione di Assange, perché gli diranno pensa a te, tu il tuo dissidente l'ha ucciso, noi lo abbiamo semplicemente estradato nel suo paese. Poi c'è ancora una terza cosa, si parla, ne ha parlato Bild, di una trattativa per la liberazione di un agente segreto russo in carcere in Germania, una trattativa per liberare questo personaggio molto vicino a Putin, lo chiamano addirittura il killer al servizio di Putin, e in cambio Putin avrebbe dovuto liberare anche Navalny. Quindi mentre porta avanti questa trattativa per riportare a casa il proprio agente segreto, muore Navalny, quindi anche quella trattativa va in fumo. Quindi Putin, ancora un'altra cosa che dobbiamo ricordare, ci sono le elezioni presidenziali in Russia fra poche settimane, e ovviamente l'uccisione, la morte di Navalny, non è che impensierisca Putin da un punto di vista elettorale, ma sicuramente porterà ad un calo dei consensi, perché c'è l'opinione pubblica occidentale contro, o ci sono delle manifestazioni contro in Russia, quindi anche questo è stato un problema. Quindi nel periodo in cui Putin stava avendo, come mai prima, spazio sui media occidentali per la verità che aveva raccontato a Tucker Carlson, nel momento in cui Putin stava facendo trattative per la liberazione di un proprio agente segreto, scambiandolo probabilmente anche col Navalny, e a poche settimane dalle elezioni presidenziali Putin decide di uccidere il suo dissidente più famoso, che tra l'altro era nelle carceri russe, quindi lo avrebbe potuto fare in qualsiasi momento. La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo.